Casa Abdelasalute Il summer lascia Lucca, finisce a Camaiore, ai microfoni di Noi TV, Mimo D'Alessandro ha svelato il progetto di trasferire la manifestazione nell'area bussola domani. Ottava del Corpus Domini, fede e tradizione, tanta gente a Castelnuovo per la cerimonia che si ripete da cinque secoli. Lo sport, il calcio, settimana decisiva in casa lucchese, da lunedì una volta terminato l'impegno a Sestri Levante del nuovo allenatore rossonero Francesco Baldini, i primi annunci di mercato. Il viareggio riparte da Pierini dopo l'ufficializzazione del nuovo allenatore, sono cominciati i primi contatti con i giocatori. Ben trovati per questa nuova edizione del TG Noi, che dunque apriamo con le buone notizie dal punto di vista della sanità, in maniera particolare dalla Versilia, da Massarosa, dove è stato siglato l'accordo che sancisce l'inizio del progetto di realizzazione di una nuova casa della salute. Ci spiega tutto Luigi Casentini. È stato ufficialmente firmato il contratto di permuta del vecchio distretto sanitario di Massarosa, un'operazione che permetterà l'inizio dei lavori, che in circa 15 mesi trasformeranno le ex scuole medie in una casa della salute, che avrà tutti i requisiti richiesti dalla regione toscana. La struttura occuperà gli oltre 870 metri quadrati del primo piano ed ospiterà servizi sociosanitari di primo e secondo livello, quali ambulatori specialistici, centri prelievi, servizi amministrativi ed un centro cupo attivo la mattina ed il pomeriggio. Un'operazione da 1.656.000 euro, che la AS12 di Viareggio finanzierà con un intervento di 1.200.000 euro, a cui si aggiungeranno i 456.000 euro derivanti dalla permuta dell'attuale distretto sanitario. Nella Versilia ci sono già sei case della salute, però rimaneva questa mancanza e ci eravamo impegnati a sanarla. In effetti oggi ci riusciamo. Abbiamo fatto uno sforzo economico considerevole, perché si sta parlando di circa 1.600.000 di investimento, però è anche vero che il distretto di Massarosa era un distretto molto piccolo, angusto e c'era necessità, anche perché Massarosa è il punto più lontano rispetto all'ospedale, quindi è con soddisfazione che oggi firmiamo questo atto. La cronaca. Un cittadino marocchino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Massa dopo una rissa avvenuta sul Viale Europa in Darsena. L'uomo è stato colpito con una coltellata vicino al cuore. Il giovane è stato trovato a terra dai carabinieri, allertati da alcuni ragazzi, soccorso da un'ambulanza del 118. Dopo un iniziale ricovero all'ospedale Versiglia, è stato trasferito all'Opa di Massa. Pomeriggio a dir poco movimentato, a Lido di Camaiore, il bagnino dello stabilimento Avvenire, ha cercato di bloccare un ladro che aveva rubato la borsa ad una cliente, ma il malvivente, per guadagnarsi la fuga, lo ha aggredito. Il ladro è fuggito sulla passeggiata, ma è stato comunque bloccato dai carabinieri. Si tratta di un marocchino di 44 anni arrestato per rapina impropria e lesioni personali. Il guardaspiaggio ha riportato, per fortuna, solo lievi ferite. E adesso parliamo di politica. Ormai mancano pochissime ore al ballottaggio a Viareggio e Pietrasanta. Ballottaggio che domenica sera Noi TV seguirà in diretta. Una lunga serata su Noi TV per scoprire in tempo reale il nuovo sindaco di Viareggio e Pietrasanta. Mancano poche ore al ballottaggio che domenica riporterà le urne ai cittadini dei due comuni versiliesi che al primo turno non hanno visto alcun candidato superare il muro del 50% dei voti. A Viareggio si sfideranno Giorgio Del Ghingaro e Luca Poletti, a Pietrasanta Massimo Mallegni e Rossano Forassiepi. Le urne rimarranno aperte dalle 7 alle 23. Alle 23 la chiusura dei seggi e l'inizio dello spoglio delle schede. A partire dalle 22.45 Noi TV seguirà l'andamento dello scrutinio, grazie ai collegamenti con i due comuni e con i corrispondenti sparsi nei vari seggi. Scheda dopo scheda con anticipazioni prima dei dati ufficiali. Tra un'intervista e un aggiornamento ci sarà spazio anche per una risata, grazie alle vignette di Antonio Clerici ed Elena Denard, che dopo aver illustrato così il ballottaggio in questi giorni, commenteranno l'esito del voto con le loro tavole. Così come è accaduto al primo turno, la nostra redazione offrirà un ulteriore servizio al proprio pubblico. L'andamento del voto potrà essere seguito anche sul sito internet dell'emittente www.noitv.it. Grazie ad una grafica chiara ed efficace, sarà possibile rimanere aggiornati sull'andamento dello scrutinio, praticamente in tempo reale. E sempre per la politica andiamo a Pietrasanta, dove il fresco, neoconfermato governatore della Toscana Enrico Rossi è arrivato a sostegno del candidato Rossano Forassiepi. Per noi c'era Roilepore. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è intervenuto a Pietrasanta a sostegno del candidato sindaco al ballottaggio del PD Rossano Forassiepi, che domenica sera vedrà con il rappresentante del centro del resto Massimo Mallegni. Rossi ha confermato pieno appoggio da parte della regione alla città di Pietrasanta, dicendo di essere molto contento, se sarà proprio Forassiepi domenica, ad avere la meglio sul suo sfidante. Ha confermato anche di essere vicino alla cittadina di Pietrasanta per quanto riguarda anche i problemi di Gaia e del Taglio. Noi senza altro recupereremo, vogliamo vincere perché questa città ha bisogno di un rapporto forte con la regione toscana. La regione toscana è sempre stata presente, anche con la mia persona, direttamente. Io sono venuto poi a dire anche che gli impegni che avevamo preso per quanto riguarda la nota vicenda sul Taglio, su cui personalmente ho fatto persino due riunioni, tre riunioni su questi temi, altre riunioni ho messo i soldi, ho messo i soldi per i recuperi, ho messo i soldi anche sul tema delle bollette. Penso anche che ci sia da fare un impegno ulteriore per il rilancio anche culturale e turistico della città. Una delle cose che dobbiamo senz'altro fare è rimettere a posto la Versiliana. Noi lo faremo, la Versiliana verrà ripiantumata come deve essere ripiantumata. Mi pare che anche sulla base di questo apporto concreto che la regione dà ci siano tutte le condizioni perché il PD possa vincere. Il candidato sindaco Rossano Forassiepi ha chiesto alla regione che sia a fianco di Pietrasante e della Versilia tutta proprio alla vigilia del ballottaggio dove spera di poter recuperare il margine di distacco rispetto alla prima tornata elettorale che ha visto in vantaggio il suo rivale Massimo Malleni. È in programma domani la pedalata per non dimenticare, ciclopedalata amatoriale da Livorno a Viareggio, evento sportivo commemorativo per ricordare le vittime delle Mobi Prince, la strage ferroviaria di Viareggio, anche la Costa Concordia dell'Isola del Giglio. La manifestazione si concluderà a Viareggio, in via Porta Petrasanta, la Casina dei Ricordi, intorno alle 11.30 con interventi dei familiari delle vittime e le autorità locali. Adesso parliamo del Luca Summer Festival. Mimo D'Alessandro, ospite nei nostri studi per l'ultima puntata stagionale di Buongiorno con noi, ha fatto un annuncio importante. Io spero di non lasciare Luca, però se dovessi lasciare Luca sicuramente sarà Camaiore, perché dove nasce 28 anni fa il festival, nell'area Bussola Domani, e quindi sicuramente sarebbe Camaiore. Dopo tante voci e indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi mesi, Mimo D'Alessandro è uscito allo scoperto nel corso dell'ultima puntata stagionale di Buongiorno con noi, ai microfoni di Noi TV, il patron del Summer Festival ha svelato la destinazione alternativa di Luca, sicuramente Camaiore, nell'area Bussola Domani. Nelle prossime ore in Piazza Napoleone comincerà il montaggio del palco, che dal primo al 28 luglio sarà calcato da grandissimi artisti, da Francesco De Gregori a Bob Dylan, da Elton John a Robbie Williams, passando per Lenny Kravitz e Mark Noffler. Ormai non è più tempo per le polemiche, Mimmo D'Alessandro e la macchina del Summer sono concentrati sull'evento, sono già oltre 50.000 i biglietti venduti in prevendita, vero record della manifestazione. I sold out, già realizzati di molte date, sta spingendo l'organizzazione a studiare nuove soluzioni per venire incontro alla città e lucchesi. Si è parlato anche di un maxi schermo in Piazza Anfiteatro per assistere gratuitamente ad alcuni concerti. Prima dell'inizio del festival però, D'Alessandro incontrerà il sindaco Tambellini, con cui vuole voltare pagina e cominciare un percorso insieme fatto di stabilità. Il programma può andare all'ultimo minuto, non sai mai sì o no, ma che succede? Quindi voglio delle certezze. Se queste certezze arrivano, il festival rimarrà a lucca per altri cent'anni. Se però le certezze non arrivano, è chiaro, uno si guarda intorno. Però l'unica certezza è che rimarrà sempre a lucca San Mirfestival. Volta pagina invece la misericordia di Viereggio dopo le dimissioni di Roberto Monciatti, è stato eletto presidente Gabriele Cipriani. Sentiamo Massimo Mazzolini. Previsioni rispettate per l'elezione del nuovo presidente della misericordia di Viereggio dopo le dimissioni di Roberto Monciatti. Da ieri sera, la confraternita di Via Cavallotti ha un nuovo presidente nella persona di Gabriele Cipriani, medico neurologo dell'ospedale Versilia. Fu lo stesso Monciatti che nei giorni scorsi, nel corso di una intervista, indicò il dottor Cipriani come suo ideale successore alla guida dell'antica associazione di volontariato. Le linee del progetto sono guidate dagli eventi. Lavorare con rigore, lavorare in silenzio e in semplicità, lavorare in comunione e in sinergia con altre associazioni del volontariato, cattoliche e laiche. Meno di 24 ore sono il presidente ufficiale di questa argiconfraternita. A nuovo presidente il compito di risanare l'associazione è dare nuovo vigore sia al volontariato che ai confratelli. Rigore e massima trasparenza e collaborazione con il mondo dell'associazionismo. Queste le priorità del nuovo numero uno di Via Cavallotti. Le rivoluzioni spesso hanno portato al taglio delle teste. Io sono una persona, ritengo abbastanza franca, qualcuno mi dice anche fumino, ma spero proprio di non essere un giacobino. Adesso ci spostiamo in Garfagnana per parlare di una tradizione che si ripete ormai da cinque secoli, ovvero l'ottava del Corpus Domini. È un evento che si ripete da cinque secoli, un momento solenne che unisce religione e tradizione. È l'ottava del Corpus Domini festeggiata a Castelnuovo dall'intera comunità religiosa della Garfagnana e della Valle del Serchio. Le celebrazioni sono iniziate nel Domo Cittadino con la messa solenne preseduta dall'arcivescovo Italo Castellani con Monsignor Abate, i parroci e i sacerdoti della zona pastorale della Garfagnana. Subito dopo la processione eucaristica con la partecipazione dei comuni, degli enti, delle associazioni della Garfagnana e della provincia. È chiamata la festa dell'ottava del Corpus Domini perché fino a qualche decennio fa il Corpus Domini era di giovedì e quindi otto giorni dopo c'è questo ritorno di devozione all'eucaristia. È un fatto che è ormai una storia di cinque secoli dove tutta la Garfagnana si ritrova per adorare l'eucaristia comunitariamente, il pane dei pellegrini, il pane che porta al cielo, il pane che ha dato il Signore al suo popolo e quindi viene esaltata questa presenza del Signore in mezzo a noi perché è la nostra forza, è la nostra fede che ci dice che il Signore è con noi, passa per le nostre strade, vive nelle nostre famiglie. Ad animare la liturgia la Corale del Duomo diretta dal Maestro Luca Bacci con la filarmonica Giuseppe Verdi diretta dal Maestro Stefano Pernacchi. Ritorniamo in Versiglia a Marina di Petrasanta dove il Pontile di Tonfano è stato intitolato alla Capitaneria di Porto. In occasione del 150esimo anniversario di fondazione delle Capitanerie di Porto il Comune di Petrasanta ha deciso di intitolare proprio alla Guardia Costiera e alla Capitaneria il Pontile di Tonfano. Con una cerimonia molto partecipata è stata scoperta la targa posta alla rotonda in cima al Pontile dal Sindaco Domenico Lombardi e dal Comandante della Capitaneria di Viareggio Davide Oddone. Questa è stata per il Sindaco una delle ultime cerimonie ufficiali e nell'illustrare le motivazioni di tale intitolazione ha anche chiesto al Comandante Oddone di intensificare i controlli proprio sotto il Pontile per evitare le situazioni di degrado che negli scorsi anni crearono grossi problemi di ordine pubblico. Presenti anche le associazioni di militari in congedo e il gruppo degli amici del Pontile che ha contribuito a proporre questa intitolazione. Abbiamo ritenuto utile, opportuno ma anche doveroso dedicare e intitolare la rotonda del Pontile di Marina alla Capitaneria di Porto in occasione dei 150 anni della sua fondazione e il Pontile alla Gente del Mare recependo quelle che sono state le richieste di numerosi cittadini che ci hanno fatto pervenire. Il Comune di Pietrasanta ci ha fatto questo regalo abbiamo questa rotonda intitolata al corpo delle Capitanerie di Porto in occasione del 150esimo anniversario quindi si può capire come per noi delle Capitanerie questa è una data importante e siamo proprio felici di questa intitolazione che dimostra proprio il legame che c'è tra la Capitaneria di Porto e il Comune di Pietrasanta e anche con gli altri comuni del litorale versigliese. E adesso come ogni fine settimana ascoltiamo l'editoriale di Sergio Talenti l'ancora dedicata al pensiero dei ragazzi delle scuole elementari di Lucca rispetto alla città. Le scuole hanno chiuso questa settimana ma qualcuna ha lasciato il segno è la scuola Carlo Lorenzini di San Pietro a Vico che ha realizzato un plastico chiamato Parco del Sole. Questo plastico è stato presentato al Palazzo Comunale di Lucca insieme alle opere di altri 180 ragazzi delle scuole secondarie e primarie cui veniva chiesto attraverso un concorso che cosa pensano loro della città come dovrebbe essere Lucca. Tutte idee eccellenti ma forse quella che viene da San Pietro a Vico merita una riflessione in più. Perché quei ragazzi hanno visto una città capovolta rispetto a quella che abbiamo costruito noi adulti vediamola come. Al centro hanno messo l'acqua un bene scomparso e riapparso poi in bottigliette molto costose lampioni ad energia solare parchi per spettacoli cestini per rifiuti differenziati ovviamente e panchine e molti alberi. Ecco non manca la pubblicità mancano i motori. città umana dunque. E' qualcosa su cui riflettere per l'assessore all'urbanistica del Comune di Lucca Serena Mammini che ha promosso questo incontro e che ha le prese con il piano strutturale della città che vuole presentare entro l'estate. Un atto decisivo che si attende da moltissimi anni decisivo per il futuro di Lucca. E dunque è bene ascoltare questi ragazzi anche per una naturale ragione che a loro il futuro appartiene. domani sera torna su Noi TV parlando con molti santi nel mondo cattolico sono ricoperti di gioielli segno di antiche devozioni ritualità e anche superstizioni la tradizione non poteva essere evitata con uno dei santi più noti in Europa il volto santo di Lucca a questo sarà dedicata la puntata di Parlando con Luigi Casentini e Jacopo Lazzareschi racconteranno l'affascinante storia della vestizione del volto santo a Sergio Talenti una storia che arriva fino al momento in cui viene inaugurata la linea ferroviaria Lucca-Pisa appuntamento domani sera alle ore 21 su Noi TV c'è un altro appuntamento questo è un programma domani pomeriggio a Lucca 13 anni della vita e della carriera di un protagonista del panorama musicale lucchese raccontati attraverso lettere e cartoline questo è l'epistolario di Alfredo Catalani da Venezia a Colognora in Val di Roggio che verrà presentato domani alle 17.30 nell'auditorium del complesso di San Micheletto e a proposito di musica appuntamento con la musica domani pomeriggio su Noi TV alle 14.30 vi riproporremo l'italiana in Algeri andata in scena al teatro dei rassicurati di Monte Carlo qualche settimana fa trasmessa già da Noi TV domenica scorsa ha riscosso grande successo e dunque ve la riproporremo domani pomeriggio in forma integrale a partire dalle 14.30 c'è un altro appuntamento domani sabato a Villa Basilica al campo sportivo sotto le scuole in programma la finale del festival delle spade concorso nazionale canoro per canzoni inedite 12 concorrenti in gara in palio uno stage di una settimana alla scuola del parogliere Mogol la serata sarà presentata da Elena Innocenti in caso di maltempo serata che si svolgerà nella sala convegni sempre a Villa Basilica è tutto per la prima parte del TG Noi una breve pausa e poi la pagina sportiva di un'altra cosa di un'altra cosa di un'altra cosa